ciao a tutti mi chiamo luciana ho 60 anni e vivo a castelranco vento e ho voluto anch'io cimentarmi a fare l'orto e questi sono i risultati che ho avuto dalla terra che ringrazio tantissimo e ringrazio anche mio papà che ho cercato di ricordare come faceva lui quando io ero piccolina che gli dà una mano, ho messo i peperoni, le melanzane, il prezzemolo, il sedano, le zucchine, i fagiolini vari tipi di insalata e vedo che sono venuti bene, insomma molto buoni, sono stati molto apprezzati anche da mia mamma e niente vi ringrazio tutti, questi sono i miei risultati e a presto e un bacione a tutti, ciao! Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.